Muzio Scevola, l'eroe che salvò Roma. Gaio Muzio Scevola, o Muzio Scevola, è uno dei personaggi più celebri della storia romana. La sua storia, narrata dallo storico Tito Livio nella sua burbe condita, è un esempio di coraggio, determinazione e amore per la patria. Muzio Scevola nacque a Roma nel 514 anno corrente, in una famiglia patrizia. Era un giovane pieno di ardore e di patriottismo, e quando nel 508 anno corrente il re etrusco Porsenna sediò Roma, Muzio decise di tentare di ucciderlo per liberare la città. Muzio si travestì da Etrusco e si introdusse nel campo nemico. Trovato il re, però, lo scambiò per il suo segretario e lo uccise. Catturato, Muzio fu condannato a essere bruciato vivo. Ma Muzio non si arrese. Nel momento in cui fu posto sul rogo, afferrò la sua mano destra e la immerse nel fuoco, senza battere ciglio. Il re etrusco, impressionato dalla sua fermezza, lo liberò e gli chiese perché avesse fatto una cosa così folle. Muzio rispose che 300 giovani romani avevano giurato di uccidere Porsenna e che lui era il primo. Questa falsa rivelazione spaventò Porsenna, che decise di trattare la pace con i romani. La pace fu stipulata e Roma fu liberata dall'assedio. Muzio, da quel giorno, fu chiamato Scevola, che significa il mancino, per aver perso l'uso della mano destra. La storia di Muzio Scevola è stata celebrata da poeti, storici e artisti di ogni epoca. È diventata un simbolo del coraggio e della determinazione, e il suo gesto è ricordato ancora oggi con l'espressione «emettere la mano sul fuoco», che significa essere certi di qualcosa. Il valore di Muzio Scevola Il gesto di Muzio Scevola è stato interpretato in molti modi diversi. Alcuni lo hanno visto come un atto di follia, altri come un atto di eroismo. Per alcuni, Muzio è stato un fanatico che ha sacrificato la sua vita per un ideale illusorio. Per altri, invece, è stato un vero eroe che ha salvato Roma dal pericolo. Indipendentemente dalla propria opinione, è innegabile che il gesto di Muzio Scevola abbia avuto un grande impatto sulla storia di Roma. È stato un atto di coraggio e di determinazione che ha dimostrato la forza dello spirito romano e la sua determinazione a difendere la patria. La figura di Muzio Scevola nella cultura popolare La figura di Muzio Scevola è stata celebrata in molti modi nella cultura popolare. È stata rappresentata in opere d'arte, in letteratura e in musica. Tra le opere d'arte più famose che raffigurano Muzio Scevola ci sono l'affresco di Tommaso Lauretti nei musei, Capitolini di Roma e la statua di Vincenzo Pacetti in Piazza Navona. In letteratura, Muzio Scevola è stato protagonista di numerose opere, tra cui il poema Muzio Scevola di Torquato Tasso e l'opera Muzio Scevola di Giorg Friedrich Handel. Nella musica, Muzio Scevola è stato ricordato in numerose canzoni, tra cui Muzio Scevola di Giuseppe Verdi e il giuramento di Muzio Scevola di Niccolò Paganini. La figura di Muzio Scevola è ancora oggi un simbolo di coraggio, determinazione e amore per la patria. La sua storia è un esempio di come l'individuo possa fare la differenza nella storia.